Dove dovete andare? Andiamo a Costa Rea A Costa Rea? Andiamo Avanti papà Alla risposta Belle le figlie belle Dobbiamo prendere il bus alle 4 e mezza No, 5 e 2 mila Non c'è alle 4 e mezza Fullmanos 5 e 2 mila 5 e mezza 5 e mezza 5 e mezza Cosa c'è di vedere là signora? Per Cagliari No, no, no Costa Rea Ah, quello che fa a Costa Rea No, ma qua c'è la novetta Vila Signus Vila Signus Dove c'è il bus C'è l'autobus Bus, Ars Grazie Buona vista, ecco da tu Stasera Ah, benissimo Ci vorrà un po' di Oh, mi roda Allora, cosa sarà? O, ecco, tu hai detto Mi provo a scendere? Sì Mi provo a scendere, giusto? Sì Dai Sì